I momenti della deportazione, l'interminabile viaggio in treno stipati nei vagoni come bestie, l'arrivo al campo di Birkenau, gli ordini urlati dei nazisti. Per quasi due ore gli studenti di alcune scuole superiori della provincia hanno ascoltato in religioso silenzio la testimonianza di Tatiana Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz, che nella sala de mollo di Palazzo Ducale ha raccontato la sua drammatica storia di bambina deportata e rinchiusa nel campo di sterminio. Sterminio tiene a sottolineare Bucci e non concentramento, dove invece qualche speranza di sopravvivere c'era. L'incontro, organizzato dalla provincia in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea, è stato introdotto dagli interventi del presidente Luca Menesini, del vicepresidente dell'ISCREC Mario Regoli, cui sono seguiti i saluti del prefetto Francesco Esposito e del sindaco di Lucca Mario Pardini. Tatiana Bucci, nata a Fiume nel 1937, ha ripercorso con la memoria quello terribile periodo della sua infanzia, una testimonianza che da tempo diffonde nelle scuole d'Italia per illustrare attraverso gli occhi di una protagonista una delle pagine più oscure e tragiche della storia contemporanea. 20 bambini trattati come degli animali, c'è stato detto da uno storico inglese, poi non so come hanno scoperto poi certe cose, che questi bambini erano stati messi in una baracca, o quello che era, assieme ai conigli dove c'erano le cavie, li mettevano in posti così, sono cose che quando le senti ti fanno star male. Erano bambini, il più grande credo che aveva 12 o 13 anni, la bambina più piccola non so se raggiungeva averne 3 o 4 di anni, quindi sono cose veramente, non ci sono parole per poterlo raccontare.